Le preoccupazioni fisiche sono le più difficili probabilmente da risolvere. Cioè, basti pensare a quella ragazza che al liceo aveva i brufoli, ma tanti brufoli, e che aveva una paura matta di farsi vedere. Non era il mio caso, perché io fortunatamente... Sì, ero un po' brufolosa, però non mi sono mai fatta problemi. Oppure quell'altra che sta perdendo i capelli, o quell'altra che, non so, ha il naso storto, deve rifarselo. È pieno di preoccupazioni sul proprio fisico. Ma bisogna anche rendersi conto che tutti hanno queste preoccupazioni qui. Cioè, sgaramutani, io sono contenta per te, sei tipo l'unico essere umano sulla Terra che non ha preoccupazioni di tipo fisico. Ma tutti hanno un po' di complessi di inferiorità. O almeno molti ne hanno. Quindi non siete gli unici, non siete gli unici e non sarete neanche gli ultimi. Quindi fatevi coraggio e pensate che siete dei grandi. Non importa se avete qualche brufolo, pochi capelli o che ne so io. Siete belli, basta! Basta farvi delle pipimentali, siete tutti belli! Le persone brutte non esistono. Ciao! 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 Robino! Scarlassoso! Ma devo passare di là, secondo voi? C'è gente che si suicida per una bocciatura, pian piano stiamo impazzendo. No, ma appunto ti dico, cioè io ci sono dei momenti in cui sei triste, cioè non esiste una persona che non sia mai triste o cose simili. Le persone tristi, cioè le persone sono tristi a volte, succede. Ma bisogna anche ricordarsi quanto siamo fortunati perché siamo fortunati, obiettivamente siamo fortunati. a parte quello qui ha appena sparato, che non è molto fortunato. C'è stato bene del cazzo, Racker! Cioè con lui non è stato molto fortunato. Io non faccio mai fotografie di gruppo per questo, infatti. In che senso fotografie di gruppo? Perché se... In che senso non fai mai fotografie di gruppo? Perché la gente si suicida? No, mi sono perso un passaggio forse. Dov'è il mio fazzoletto? Oh, accidenti. Giù, mon amore. Vabbè, perché ho camminato su quello coso lì? Mi hanno... Sì, beh, qualcun altro magari. Ma chi è che mi sta sparando? C'è mancato. C'è mancato. Spanata cazzo. Sto morta. Eh sì. Non mi vedo bellissima, nelle foto esco ancora peggio. No, dai, non ci credo. Non ci credo, Doc. Non farti mai problemi per il tuo aspetto, perché... Perché non... Perché ti distrugge la vita, non ne vale la pena. Sì, vabbè. Che cazzo. Scusate. Carica partita. Vai. Non farti mai problemi. E soprattutto pensa che gli altri che si stanno facendo la foto in realtà hanno esattamente gli stessi problemi che hai tu. Identici. Hanno le stesse paure che hai tu identiche. Anche se ti sembrano belli. Sono sempre quelli che si guardano in foto e dicono come sono venuto, come sono venuto, come sono venuto. Vabbè che tutti sono così. Soprattutto... Poi i giovani. Poi ad un certo punto ci si smette di preoccupare e basta. Si manda tutto il mondo a fanculo. Eh, vedi, vedi, vedi Doc. Anche sgarra mutande ha lo stesso identico pensiero tuo. Cioè non sei l'unico che ha questa idea. Balzana. Cioè tutti si vedono brutti a questo mondo, eh. Cioè anche Scarlett Johansson è capace di vederti brutta. E' lì che è come c'è Iron Man. Via! Speriamo che Ellie ci sia. Ellie? Ellie? Grande. Grande Ellie! Che cazzo! No, ma non bisogna. Cioè, ragazzi, siete voi! Voi siete voi! vi rendete conto, siete vivi siete qui oggi non so che, non bisognerebbe volere nulla di più il fatto è che siamo corrotti gli esseri umani sono così non è è un qualche cosa di malvagio pensate a questi due poveracci che stanno facendo di tutto per sopravvivere, secondo voi a loro frica qualche cosa, che sono spettinati i sporchi non si lavano da un mese non gliene frega un cazzo cioè l'altro giorno stavo leggendo un libro su gli ammutinati del bounty non so se conoscete la storia c'era questo mercantile, il bounty che è stato mandato a Tahiti per una missione e una volta stati a Tahiti per sei mesi si ammutinarono e si ammutinarono mentre erano in viaggio e invece di uccidere il comandante che si chiamava Bly che è diventato famoso invece di ucciderlo lo misero in una lancia una lancia è una specie di scialuppa senza vele a remi una lancia da otto persone e dicendo chi vuole seguire il comandante prego e lo seguirono in 19 il bounty non era una nave grande era una nave da diciamo 30 persone 40 persone 19 seguirono il capitano in una lancia da in una lancia da otto persone e sopravvissero in mare per 45 giorni senza cibo senza mappa in una in una lancia da otto persone in 19 e e sopravvissero in una situazione di merda adesso è finita la cassia e lo spurno a tutti ma le che si sono sacche io ho cercato di uccidere te sì pensi che sei uno di loro anche poi vedo a te se non hai capito non hanno capito non prendono bambini per l'escrizione per l'escrizione tu stai non è niente sono Henry è Sam credo che ho capito il nome è Joel Sono d'accordo Ellie Sempre aiutare Teamwork Ci devi credere a parte gli scherzi L'ho avuto per questo problema dell'adolescenza Tutti hanno questo problema dell'adolescenza Ma io non me ne preoccupo Bravo sgarramutande Quando approcci con le ragazze ti fai le fatidiche domande Doc tu non sei Quello che ti ritengono gli altri Tu sei tu Spesso tu non sai neanche quello che ti ritieni tu Quindi figurati Anzi non lo sai Sei qualcosa di più grande Valer dice giustamente Ce stanno brutti dentro e belli fuori Doc dice Alla fine io punto sulla mia simpatia Bravo Ciao Liquid Tutte le combinazioni Valer dice Sgarramutande dice che qui si parla di massimi sistemi Sì più o meno E il mondo è bello perché è vario Dice Valer Comunque stavo dicendo Sì Sopravvissero per 45 giorni in mare Mi sta chiamando un mio amico Scusate un attimo Allora mio amico un vecchio amico di PSN Io ho detto che sto facendo la live Subito Giustamente E niente Dicevo Questi qua Sono sopravvissuti per 45 giorni Mangiando Un pezzo di pane Che era più o meno grande Come l'unghia del loro pollice Tutti i giorni Tranne ogni tanto Quando gli capitava un uccello Che allora riuscivano Riuscivano a Riuscivano a spartirsi nel 18 Cioè un uccello Più o meno grande Come un gabbiano Una sula Credo che sia più o meno grande Come un gabbiano E Per 45 giorni così Bevendo quello che pioveva E mangiandosi questo pezzo di pane Grande come un'unghia E Niente Cioè si sono fatti 200 chilometri a remi Remando In mare Senza mappa E alla fine sono arrivati Erano inglesi Sono arrivati in una colonia olandese Dove sono stati raccolti col cucchiaino Cinque sono morti di No quattro sono morti di media Uno è morto perché è stato ucciso dai Dagli indigeni Che l'hanno fatto fuori Gli hanno sfraccellato la testa E gli altri quattro sono morti di media Dopo essere arrivati Cioè loro sono sopravvissuti per tutto il viaggio Ma non si sono ripresi dal viaggio E gli altri si sono ripresi E sono tornati tutti a casa Quindi cioè ragazzi Non c'è bisogno di niente Cioè Si può vivere in condizioni estreme Quando viviamo in condizioni estreme Il nostro cervello si Autoregola sulla condizione estrema E Per dire Cioè Il nostro cervello deve Deve lavorare Se non ha nulla su cui lavorare Si inventa le cose È così Quindi voi cercate di pensare sempre questo Cioè il vostro cervello può essere il vostro miglior amico O il vostro peggior nemico Per chi ha visto Silent Hill Ovviamente chi ha giocato Silent Hill Questo è ovvio Ricordatevelo sempre Non avete bisogno di niente Cioè il corpo umano Non ha bisogno di niente Tutto quello di cui pensate di aver bisogno È una cosa del cervello E a quel punto Una volta che lo capite Siete Siete più felici E Il problema è capirlo Dite voi giustamente E Spesso Uno Siete più felici